Cioè siamo ai 90 all'ora e davanti a me è un monopattino che ha superato tutte le macchine Guarda, è pazzesco, cioè guarda, ha superato le macchine in fila, no non ci credo, ai 90 all'ora, è fantastico questo qua, è pazzesco, non ci credo, cioè, guarda No, è fuori, ma questo qua si comincia a superare prima le macchine, guarda, guarda, adesso supererà questo, guarda, 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 è fantastico Vediamo come ci superare anche questi Guarda, 82 all'ora, 83, 81, guarda Sì, fantastico, prima ha superato tutti al buio, no, è allucinante, è una roba di gente No, è fuori Vi stiamo andando sinierola, no, no l'idea